Da un posticipo ad un anticipo, il calendario del Catania non conosce certezze e ancora oggi non sono mancati botte risposte dall'Etna a Firenze sul rinvio della gara col Fondi, ma la novità è anche un'altra, quella dell'anticipo alle 16.30 della partita di mercoledì prossimo a Reggio Calabria. Inizialmente la Lega aveva comunicato modifiche solo per Maceratese Ancona e Comolivorno, quindi nuova comunicazione per Regina Catania ed un anticipo dettato dalla richiesta delle autorità competenti per motivi di ordine pubblico per una partita considerata a rischio, una decisione che potrebbe preludere a una trasferta aperta ai tifosi rossazzurri. La squadra intanto lavora a pieno ritmo a Torre del Grifo, Rigoli sta sfruttando il turno di riposo forzato per aumentare i ritmi nelle sedute matturine a cui sta sottomanendo la squadra sino a domani. Dal lunedì invece si lavorerà con il consueto programma che precede una trasferta di campionato. L'allenatore domani guarderà interessato al suo vecchio stadio, all'esseneto, dove l'Acracast affronterà la regina, reduce dal derby vinto col Messina. I calabresi sono una delle possibili sorprese e Rigoli studierà uomini e schemi di Zeman Junior per cercare di imbrigliarlo a casa propria. Il clima insena il gruppo è sereno, il pareggio di Andri è stato accolto con soddisfazione, anche se si confidava di mettere in cascina altri punti ed entusiasmo contro il Fondi prima della trasferta, al di là dello stretto. Sulla formazione ancora Rigoli non ha approfondito il tema, prendendosi qualche giorno in più per tenere sulla corda qualche giocatore e magari aumentare la qualità degli allenamenti perché l'ipotesi più probabile è che si prosegua sulla via intrapresa nelle prime giornate, ma il Catania ha uomini e mezzi per sorprendere e mettere in difficoltà qualsiasi avversario.